Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. L'idea di oggi sarà un get ready with me in cui ci prepareremo insieme, infatti come notate sono totalmente struccata in questo momento, perché sto per girare altri video nella categoria ASMR, quindi mi voglio preparare con voi e intanto chiacchierare insieme. Perché ragazzi, come tutti ben sappiamo, è iniziato un nuovo anno, siamo ufficialmente dentro al 2024, e questo credo che per me e per la mia vita sarà un anno di forte cambiamento. in tantissimi sensi, quindi voglio un po' raccontare i miei buoni propositi per quest'anno nuovo, gli obiettivi che mi sono prefissata, i cambiamenti che accadranno probabilmente in questo arco di tempo, in questo nuovo anno, però vando alle ciance e direi di iniziare a prepararci subito. Scusate se da adesso mi vedrete guardare di qua, ma ho appunto lo specchio, e intanto parto con il chiedervi come è iniziato il vostro 2024. Se li va di lasciarmi qua sotto nei commenti, sono davvero molto curiosa di sapere anche i vostri, se li avete. Se non li avete è lo stesso, perché spesso c'è anche questa sorta di imposizione barra obbligo in cui con l'inizio di un nuovo anno bisogna per forza essere carichi, motivati, per l'anno nuovo ecco, non è per forza così, non per tutti è così e va bene, è giusto che sia così, copriamo questo brufolo da panettoni, pandori e ci varie e varie di Natale. Spesso appunto c'è questa tendenza, soprattutto sui social, di romanticizzare tutto, ed è bello da una parte, perché anche a me piace tantissimo guardare i video estetiche, è un po' anche questo, vuole avere tra virgolette quel fine. Ma in realtà non voglio perdere appunto quella che è la normalità delle cose, della vita, perché non sempre appunto si può romanticizzare, non sempre vedere i contenuti sui social può essere sano, anche quando l'intenzione di chi li pubblica è assolutamente, scusate io metto il correttore in maniera molto spartana, anche se appunto l'intenzione di chi pubblica il contenuto è assolutamente positiva e buona, a volte non sempre chi osserva il contenuto, chi guarda il contenuto, non recepisce la stessa cosa perché poi inevitabilmente si fa il confronto con la propria vita, quindi anche questo volevo dirvi appunto, non sentitevi in difetto se magari quest'anno non è iniziato a migliorare i modi, ovviamente non perdete la speranza sul fatto che le cose possano migliorare, ma seguite il vostro tempo, il vostro flusso e se volete guardate quello che accade intorno a voi, eventualmente anche sui social, magari per trarre eventualmente ispirazione o anche un po' di carica, ma non deve essere per forza così, ecco. Il trucco di oggi sarà molto molto easy, intanto ho usato questo correttore di Maybelline, che è il cancelletta super famoso, che io adoro, e adesso vado a mettere questa matita long lasting marrone di Essence, che poi vado a sfumare, cosa faccio una cosa super super semplice, per me questo 2024 sarà sicuramente un anno molto molto pieno, e in parte la cosa mi piace e in parte mi terrorizza, tra virgolette, perché, insomma, ci sono veramente tanti cambiamenti in atto, la laurea, sto cercando lavoro già adesso, quindi iniziare, si spera, entro il 2024, di trovare lavoro e di iniziare quindi una nuova fase della vita, quindi non più essere studentessa, ma ufficialmente iniziare a essere indipendente, a guadagnare il mio stipendio, a trovare, si spera, un posto di lavoro che mi possa piacere e soddisfare, e appunto iniziare così, appunto, a gestire le mie finanze e essere diventata indipendente, perché per me questa è una grande esigenza e un grandissimo, diciamo, buon proposito per il 2024, ovvero diventare autonoma, indipendente, potermi permettere di gestirmi, appunto, le mie finanze, avere delle mie entrate, che già in parte con i miei lavori, diciamo, sui social, per quanto piccole entrate, in parte ho avuto, però ultimamente sono stata un po' incostante e devo dire che questo mi ha penalizzato, ma è normale, sui social funziona così, e però appunto vorrei molto riuscire anche, riuscire appunto a trovare lavoro e riuscire anche a trasformare un po' di più entro quest'anno, anche se non è essenziale darsi delle scadenze, secondo me, perché a volte le cose non capitano quando te lo aspetti, entro il tempo in cui ti aspetti che accadano, quindi è importante anche lì saper bilanciare le cose, non distruggersi, se poi questo obiettivo non arriva entro la fine dell'anno, magari arriverà più avanti, ma mi piacerebbe che arrivasse, ovvero riuscire a trasformare la mia passione per i social, per la comunicazione in un lavoro, so anche che per questo, un altro buon proposito, per il mio 2024, ma in generale per la mia vita, è che devo essere più costante nelle cose, perché purtroppo puoi avere tutte le capacità del mondo, tutte le potenzialità del mondo, ma se non sei costante nelle cose, i risultati 99 su 100 non arriveranno mai, quindi per me, un buon proposito per questo 2024, è diventare più costante nelle cose, cercare di essere meno pigra, che poi non è una questione di pigrizia vera e propria, perché in realtà sono una persona che ha sempre tanta voglia di fare, però sono una persona che ha anche tanto bisogno degli spazi, per rilassarsi, per riposarsi, e questo talvolta, non mi aiuta, ecco diciamo così, perché poi inizio a rilassarmi, a farmi le mie cose, nel chill più totale, e poi va a finire, che però quello che dovevo fare non viene fatto, quindi è giusto avere dei ritagli di tempo, per il proprio benessere mentale, per rilassarsi, anche il dolce far niente, perché anche non far niente è importante, però questo non deve diventare una limitazione, per la propria produttività, o comunque per i propri obiettivi in generale, non necessariamente la produttività, quindi appunto, buon proposito, diventare più costante, essere più organizzata, infatti mi sono anche comprata un'agenda, nella speranza, di poter mettere nero su bianco, le cose che devo fare, riuscendo diciamo, a metterle in pratica meglio, perché a volte appunto, parto con mille idee, con mille cose che voglio fare, ma poi, non, me le perdo, nei miei andri della mente, diciamo così, adesso vado a mettere il blush, e l'illuminante, questo qua di Guvi, che in realtà è mia mamma, glielo ho rubato, non diciamoglielo, e vado prima con il blush, che è questo qua, un po' pescato, in realtà io non sono una fan dei colori pescati, per le guance, però, perché no, ce l'abbiamo, proviamo, io ragazzi, metto tutto con le dita, proprio, così, e, quindi, appunto, ho questi obiettivi per il 2024, essere più costante, ma anche un'altra cosa, davvero molto molto importante, ovvero il mio benessere, il mio benessere fisico e mentale, perché negli ultimi anni, è stato un po' trascurato, sia per colpa mia, sia per cause un po' esterne, la vita, insomma, che spesso porta stress e problematiche, più o meno serie, diciamo che negli ultimi anni, ho avuto alcuni problemi familiari, che mi hanno portato veramente a subire, un forte stress, che mi ha portata anche a, insomma, non star bene, e a iniziare un percorso di terapia, però comunque, ho iniziato un percorso, con una psicologa che per ora mi sembra, davvero molto valida, o comunque adatta a me, e, ehm, ho sentito che era qualcosa, che dovevo e volevo fare, l'ho fatto in realtà nel 2023, ehm, però è qualcosa che appunto, sapevo di aver, di cui avevo bisogno, diciamo, era qualcosa, di cui avevo bisogno per stare meglio, e, appunto, per me il mio benessere mentale e fisico, sarà proprio, uno dei focus fondamentali, di questo 2024, perché non ho più intenzione, di annullarmi, o comunque di, ehm, diciamo, mettermi da parte, è ovvio che ci sono situazioni, nella vita, e momenti in cui, non ci si può mettere sempre al primo posto, ma, è importante non dimenticarsi, poi, di mettersi al primo posto, perché, gli unici compagni di vita, per tutta la nostra vita, saremo noi, quindi, è importante che, ci si prenda cura di noi stessi, anche talvolta, secondo me, diventando un pochino più egoistiche, questo non vuol dire, ignorare le persone, a cui si vuole bene, o, appunto, pensare solo a noi stessi, ma, ricordarci sempre, che se una cosa, non ci fa star bene, bisogna cercare un modo, per, o allontanarla, o comunque, per bilanciare, far sì che però, si trovino altre cose, che ci aiutino a stare meglio, perché purtroppo, certe cose sono inevitabili, non tutto ci può far star bene, e la vita spesso ci mette avanti, delle prove molto difficili, però, sono proprio di questa, di questa idea, e vorrei anche, appunto, prendermi più cura del mio corpo, perché io, comunque, non so se, l'ho mai detto su questo canale, forse no, ma, ho una patologia, alla tiroide, soffro di tiroidite di Hashimoto, che, per chi non lo sapesse, è una malattia autoimmune, legata alla tiroide, per cui, il mio sistema immunitario, vede la tiroide, come un agente esterno, come una sorta di minaccia, come se fosse un virus, diciamo così, e quindi, la attacca, e la danneggia, sostanzialmente, nel mio caso, producendo, facendosi che la mia tiroide, si usuri, sempre di più nel tempo, fino a quando, la mia tiroide non funzionerà più, e, facendosi che, la mia tiroide, appunto, produca, meno ormoni, di quelli che, sarebbero necessari, per il fabbisogno, dell'organismo, del metabolismo, e questo porta, delle conseguenze, sia sul metabolismo, quindi sul peso, nel mio caso, e sull'assunzione, di determinati cibi, che a me, fanno più male, rispetto magari, ad altre persone, che, fortunatamente, non soffrono di questo problema, è un problema, comunque, gestibile, nel mio caso, non ho sintomi, particolarmente evidenti, faccio una terapia, che comunque, va a compensare, le mancanze, della mia tiroide, quindi, fortunatamente, non devo, diciamo, non ho degli effetti collaterali, così grandi, se non quelli, un po' sul metabolismo, per cui, faccio veramente fatica, a perdere peso, e assimilo, molto facilmente, e, ultimamente, appunto, vorrei, ridimensionare, un po' la mia dieta, ma soprattutto, per una questione di salute, perché, ammetto che, negli ultimi anni, ho trascurato, un po' questo aspetto, soprattutto, perché, appunto, con la mia patologia, certi alimenti, andrebbero comunque evitati, o ridotti, al minimo, e io, invece, ho continuato, a mangiarli, senza problemi, però, appunto, a lungo andare, sento che il mio corpo, ha bisogno, di fare un po' di detox, e voglio assolutamente farlo, voglio anche iniziare, ad andare in palestra, a fare un po' di movimento, voglio prendermi, insomma, quella di me stessa, in tutti i sensi, sia mentalmente, che fisicamente, trovo che sia qualcosa, di estremamente importante, e, che invito, tutti voi, a fare, quando ve la sentite, perché poi, non è un qualcosa, che può partire, da qualcun altro, deve partire da voi, io per anni, appunto, ho trascurato, questo aspetto, e tuttora, ancora, ho appena iniziato, a cercare, di fare certe cose, per, diciamo, prendermi, un po' cura di me, so che non è facile, però, vi invito, appunto, a farlo, perché, è importante, noi siamo il nostro tempio, il nostro corpo, il nostro tempio, come dicono in tanti, però, credo sia, una frase, molto vera, e quindi, è importante, prenderci cura di noi, sotto ogni punto di vista, per avere una vita, più appagante, più serena, più equilibrata, io proprio, ricerco l'equilibrio, come una brava bilancia, quale sono, ricerco assolutamente, l'equilibrio, un'altra cosa, che in realtà, non è un buon proposito, in questo caso, ma sarà un cambiamento, molto grande, nella mia vita, che avverrà, diciamo, a breve, ora vado a mettere, questo rossetto, di Charlotte Tilbury, questo rossetto stupendo, che è il Pillow Talk Intense, 3 Intense, io lo amo, è bellissimo, prima di iniziare, però a raccontarvi, mi metto, la matita, e il rossetto, tra l'altro, questa matita, è un po' troppo chiara, rispetto al colore del rossetto, infatti, poi andrò ad acquistare quella, proprio dello stesso colore, ora, ditemi se non è, meraviglioso, lo amo, follemente, la grande novità, di questo 2024, è che, il mio ragazzo, ha comprato casa, quindi, ha comprato lui, io ancora non lavoro, quindi ha fatto questa scelta, di appunto, visto che ci sono, ci sono, diciamo, ci sono stati i presupposti, ci sono allineati i pianeti, in un certo senso, è stato possibile, dopo tanto tempo, in cui desiderava questa cosa, riuscire finalmente, a renderla, possibile, quindi è riuscito a comprare una casa, veramente bellissima, che non vedo l'ora di mostrarvi, ha comprato casa, e quindi, per noi, inizierà comunque, una nuova vita, una nuova epoca della relazione, in cui, sì, ok, al momento, non andrò a convivere, perché ancora non lavoro, perché ancora, sono alcune cose, che devo sistemare prima, però è sicuramente un qualcosa, di molto più tangibile, di molto più vicino, rispetto a quanto non fosse prima, e ovviamente, potremmo finalmente, goderci di più i nostri spazi, la nostra routine, creare, insomma, il nostro piccolo nucleo familiare insieme, ed è qualcosa, che davvero sconvolgerà, credo, questo 2024, e lo renderà, sicuramente, una svolta, molto grande, per la mia vita, e anche per la nostra vita di coppia, in generale, per la nostra relazione, perché, ovviamente, si passa un po' verso, la vita da adulto, e responsabilità, di gestire una casa, di fare la spesa, anche banalmente, se mai, non vedo veramente l'ora, che questo succeda, tra l'altro, appunto, un trasloco sarà mese prossimo, a febbraio, quindi non vedo veramente l'ora, e io, ovviamente, adesso andrò lì molto più spesso, ovviamente, non fissa, ancora, però l'obiettivo, insomma, ovviamente è quello, stiamo già scegliendo i mobili, piano piano arredando la casa, quindi poi, vi farò vedere, spero appunto, quando, quando andremo a fare qualche acquisto, perché ancora abbiamo preso giusto la cucina, abbiamo ordinato il letto, ma deve ancora arrivare tutto, l'unica cosa che c'è in quella casa, per ora, è un armadio, però sono veramente felice, e, io non vedo veramente l'ora, non vedo davvero l'ora, di fare questo cambiamento, perché, sono arrivata in una fase della mia vita, in cui, ho proprio necessità di avere i miei spazi, di vivere da sola, di gestire le mie giornate, solo e unicamente come voglio io, e non perché a casa mia non possa farlo, qui con i miei genitori, ma ovviamente è diverso, perché non si è da soli, si vive con i genitori, c'è sempre comunque qualche limitazione, legata a questo fatto, e io ho proprio bisogno e necessità, invece di andare oltre, di passare alla fase successiva, e quindi big novità, perché ci saranno tantissimi contenuti, che spero di portare su questo canale, legati appunto alla casa, all'arredamento, eccetera, quindi questo 2024, sono un anno di forte cambiamento, se tutto va bene, a febbraio-marzo, mi dovrei laureare, comunque, se non fosse a febbraio-marzo, sarebbe sicuramente entro il 2024, quindi, ufficialmente terminare un percorso iniziato, durante la pandemia, che è quello dell'accademia, che purtroppo non vi ho, su cui purtroppo non vi ho portato molto, non ho condiviso molto alla fine, come avrei voluto, fin dal principio fare, però, si sta concludendo comunque, questo percorso, che mi ha veramente arricchita tanto, mi ha fatto conoscere persone bellissime, scoprire un contesto, veramente bello, e quindi sono grata di questo, e grata di aver studiato qualcosa, che mi piace, in un ambito creativo, e che mi ha comunque aiutata molto a crescere, quindi, questo 2024, sarà la chiusura di un cerchio, e l'apertura di un nuovo cerchio, come si suol dire, si chiude una porta, si apre un portone, speriamo sia così, e niente ragazzi, questo è il mio look finito, veramente super super easy, tra l'altro, il blush quasi non si vede, in realtà, molto molto leggero, devo dire, però illumina, non mi dispiace, questo è il rossetto, poi vabbè, ho messo questi orecchini, simile a Bottega Veneta, che adoro, quindi trucco molto carino, molto semplice, con questo cardigan, questo maglioncino smanicato, grigio, e la camicia sotto, che adoro, quindi, ecco qua, così, poi vado a mettere, magari qualche accessorio, qualcosina, questi sono i miei propositi, e i miei obiettivi, per il mio 2024, voglio portarvi con me, in questo nuovo anno, quindi spero davvero, di riuscirci, questa volta, speriamo davvero, io volevo appunto, con questo video, anche darvi un po' di, non lo so, incoraggiarvi, vorrei appunto incoraggiarvi, per questo inizio di anno, so che, magari, tante cose, non saranno semplici, che la vita, appunto, non sempre, ci rende le cose facili, ma cercate sempre, di trovare il bello, nelle cose, quando possibile, cercate sempre, di non, perdervi nell'oscurità, delle cose brutte, che magari accadono, ci sta anche, anche quello, in certi momenti è necessario, però è sempre importante, poi, cercare, per noi stessi, di tirarci fuori, da certe situazioni, per il nostro bene, quindi, questo, per questo 2024, ragazzi, vi auguro, di amare voi stessi, di prendervi cura, di voi stessi, e di vivere, al meglio possibile, e nulla ragazzi, noi ci vediamo, super presto, con un prossimo video, fatemi sapere, giù nei commenti, quali sono i vostri, buoni propositi, per il 2024, oggi mi sono, proprio aperta, con voi, quindi spero, che questo video, vi abbia anche solo, tenuto un po' di compagnia, e nulla ragazzi, un bacione, alla prossima!